No, ma mi faccio una roba nuova questa qui, guarda, che sono bella che sei, non mi guardate no, è una roba buona tutta questa qui, che non siamo più nei sotterranei del metro oggi, qui facciamo un viaggio apposto erotico su tutte le linee airline del mondo e cerchiamo giusto appunto dove loro ci presentano dei film particolari da gustare, da leccare, film da leccare, mamma mia quanto è bello, grazie, 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 grazie.